Non ci ferma nessuno, non ci ferma nessuno, il podcast, il diario di bordo del tour motivazionale universitario di Luca Bella, puntata numero 35. Buongiorno ragazzi, la tappa di ieri ha lasciato il segno, è dire proprio di sì, tra tag, condivisioni di foto e tant'altro, sui social continua l'euforia dell'evento di ieri. Sui giornali e sui siti oggi si parla molto di Ludovica Nasti, ospite dell'appuntamento con gli studenti dell'Università degli Studi di Parma. La vita è davvero un dono prezioso e lei, affetta da una forma di leucemia a soli cinque anni, ce lo ha raccontato. Oggi ha superato la malattia ed è un'attrice apprezzatissima e non possiamo che augurarle il meglio. Ieri sono riuscito a rivedere anche un po' di amici che stimo tanto. Il rettore Paolo Andrei è uno di questi. L'impossibilità di vederci in Ateneo, come ogni anno, ci ha privato del gusto di un incontro, ma ci siamo confrontati in diretta e un'altra pagina di storia di questa campagna sociale è stata scritta. È bello ritrovarsi a parlare di valori importanti quali la solidarietà, lo spirito di appartenenza e di qualche bel ricordo che lega meno ci ferma nessuno e l'Università di Parma. Il tema della solidarietà, di essere insieme agli altri, sapendo che non ci ferma nessuno ma che non possiamo andare avanti senza gli altri. E quindi credo che questo sia fondamentale per tutti noi che viviamo l'Università, che viviamo nella società. Credo che ci sia veramente bisogno di questo messaggio ancora oggi e ancora più importante in questo momento difficile che stiamo attraversando. È un nostro professore ad onore, come è stato ricordato anche nel video di presentazione. È stata una bella idea del rettore che mi ha preceduto, Loris Borghi. Ha segnato una tappa importante della crescita di questo percorso. Parole bellissime e la carovana dell'entusiasmo e quindi tutta la community ringrazia. E dopo Parma siamo già al lavoro per una nuova incredibile tappa siciliana. Giovedì prossimo, infatti, saremo con gli studenti dell'Università degli Studi di Catania. A domani!